L'arresto è un greco, da cento anni la polizia adesso è diventata una città, una polizia. Il balcone non ha un grigio, quelli sono grecchi e quelli sono al petto rotta, perché le donne in un tempo portano i cerchi inventati di sotto quando lo resti, e poi avevano un po' di mezzo. Questo è un pavimento originale del tempo, ma io ricordo della scuola madoretana. Per l'epoca è specialmente.